Si fa sempre più vicino il completamento dell'iter procedurale per l'avvio dei lavori per il recupero della sede comunale di Teramo in Piazza Orsini, chiusa da anni per i danni causati dal sisma. È arrivata infatti la prima valutazione positiva sul recupero della sede storica del comune. A esprimerla sono stati i tecnici dell'ufficio per la ricostruzione post-sisma del centro Italia nel corso dell'incontro con i progettisti dell'intervento da 9,6 milioni di euro e funzionari dirigenti comunali che stanno seguendo la pratica legata alla cosiddetta ordinanza Teramo. Alla riunione ha partecipato anche il sindaco Gian Guido D'Alberto in una delle sue prime uscite ufficiali dopo la cerimonia di proclamazione che ha sancito la sua rielezione alla guida della città. Sindaco D'Alberto, possiamo dire che il recupero del comune è sempre più vicino? Sì, la procedura va avanti, spedita. Dopo l'approvazione dell'ordinanza Teramo abbiamo recuperato il terreno perso dovuto soprattutto ad una burocrazia troppo stringente e ad una complessità anche dell'intervento che non è riferito soltanto alla sede municipale ma all'aggregato che è misto pubblico-privato. Un lavoro importante, abbiamo già avuto il primo ok da parte dell'USR con il progetto che è stato approvato prima della fine del primo mandato l'incremento dell'importo con il progetto presentato è decisamente sostenibile, ragionevole quindi siamo su 9 milioni e 6, un incremento quindi che può essere tranquillamente coperto c'è l'interlocuzione con la sovrintendenza per i pareri compatibilità con i vincoli e si procede invece con la progettazione. Andremo in gara entro l'anno, quindi con l'affidamento dei lavori entro l'anno questo è un obiettivo ambizioso ma che vogliamo assolutamente cogliere perché il recupero della sede municipale è assolutamente una priorità tra gli interventi di questo mio secondo mandato.